Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare il Cypher System, che è un sistema di regole universale, che tra l'altro, vi devo dire, mi rimanda indietro di almeno 20 anni, se non di più, ai tempi di GURPS. Però questo è fatto decisamente meglio, GURPS era un altro tipo di sistema percentuale, molto più macchinoso. Comunque, della Montecuc, è portato in Italia da Weird Edizioni, che io ancora una volta accolgo l'occasione per ringraziare veramente di cuore. Grazie di cuore ragazzi, è sempre un onore collaborare con voi. Ogni volta che ci avete una novità, subito che me la mandate, siete voi stessi che la proponete, quindi grazie veramente di cuore. E soprattutto, colgo piccola parentesi, voglio ringraziare Elisabetta per come mi ha trattata a me e mia moglie quando sono venuti a Lucca Comics. Quindi veramente grazie di cuore, è stato un onore di conoscerti, un piacere, ricapiterà sicuramente, grazie, sai bene, di quello che hai fatto. Quindi grazie veramente di cuore e saluteci il Presidente, eh. Lunga vita al Presidente. Il Cypher System è un sistema, come vi dicevo, di regolamento universale. E quello che vedete qui davanti è un manuale un po' come poteva essere appunto il GURPS, Ai Tempi d'Oro, o anche Rollmaster e tanti altri del passato, che uno lo può utilizzare tranquillamente per preconfezionarsi e crearsi la sua ambientazione preferita. Nel manuale qua giù dentro, tra l'altro fatto benissimo, mi piace da morire, è chiaro. Uno dei regolamenti sembrano difficili, vi dico la verità. Prima lettura, il Cypher System l'ho letto, ho detto, dè ma quante osi c'è da tenere a mente. Poi ho girato la pagina e ho fatto, aspetta, no ma forse ho letto male io. Sono tornato indietro, l'ho riletta, perché ti dà tante nozioni questo regolamento. Ti dà tanti termini, però che poi non tornavano, perché tanto ve la faccio vedere nel corso del video, mentre sfoglio il manuale. Se vedete la scheda del personaggio in fondo, dite un torno a valcosa, perché le regole, cioè le osi che mi fa tenere a mente, la tenacia, il focus, il descrittore, cioè ci sono duemila termini a tenere a mente e poi sulla scheda c'è scritto quattro cavolate, perché è il gioco più facile veramente del mondo. Uno magari lì per lì se lo legge all'inizio e dice sì, però ci sono diversi termini a tenere a mente, però il sistema è veramente uno dei più facili e tra l'altro secondo me riusciti che si possono adattare a qualsiasi tipo di ambientazione, perché nel Cypher System, già sfogliando il manuale, tra l'altro in una maniera che mi garba, come ho già visto anche in altri manuali di altri editori, diviso con delle specie di segnalibri colorati, laddove la prima parte, quella blu, è quella che parla del regolamento, poi creazione del personaggio e poi in ultima in verde è la parte del Dungeon Master e dove ci sono tutti quanti i mostri. E dentro proprio il gioco, dentro il Cypher System, ci dà già quattro ambientazioni praticamente già pronte. A livello di regole, non a livello di descrizione, ambientazioni che ne so, un futuristico alla Mad Max oppure un cyberpunk alla Blade Runner, o un fantasy tipo il Sione degli Anelli. No, non ci dà l'ambientazione però ci dà le regole giuste perché l'ambientazione è lì, quindi qui ci dà un fantasy, un futuristico, uno di supereroi, un horror e poi ci sono altre varie ambientazioni. Perché ad esempio se io vado a creare un personaggio nel fantasy, il guerriero è quello che va avanti e picchia. Sì, lo posso chiamare guerriero anche in un'ambientazione western, ma sarebbe meglio magari chiamarlo il pistolero. Oppure prendendo un arciere nel fantasy, nel futuro magari un cecchino. Insomma, è anche un fatto di cambiare nome e rivedere un po' le abilità, a seconda dell'ambientazione. Però, diciamo che ci dà questo qui non è un regolamento, sono quattro regolamenti, ognuno per un'ambientazione differente. E le regole del Cypher System sono molto semplici perché si basa tutto sul tiro di un solo dado. Poi, ovvio, ci possono essere prove che magari vi dicano di tirare altri tipi di dadi. Però per fare le prove, quindi per attaccare qualcuno, quindi prova giocatori contro l'altro giocatore, giocatore contro NPC o giocatore contro l'ambiente, provo a sollevare una porta, provo a rimuovere un masso, provo anche semplicemente a fare un salto da un tetto a un altro, da un albero a un altro durante un inseguimento, in quel punto lì io devo fare un'azione, devo tirare un dado. E per tutte le prove del gioco il dado è sempre il D20. Ovviamente, col Cypher System sono già uscite un trilione di ambientazioni. E fra queste ambientazioni, le più famose, o almeno quelle che a me sono piaciute maggiormente, sono state Gods of the Fall, che ce l'ho in versione cartacea e ve lo farò vedere, sarà argomento di un prossimo video, che tra l'altro è molto bella come ambientazione, perché ci chiama nella parte di divinità. Che non sanno di essere divinità, perché c'è una storia tutta particolare e strana, ma che piano piano inizieremo a sviluppare i propri poteri. Ed è bello, perché metterci nei panni di una divinità scesa sulla Terra, che piano piano sta riscoprendo che era un tempo, è veramente molto bello. E un'altra ambientazione, quella che a me mi piace assolutamente di più, che quando aprite il manuale, la prima cosa che c'è scritto, creata per amore dei dinosauri, che lo sapete io, Cory Fireark, insomma, alla fin fine mi sono entrato in testa, ma a me è sempre piaciuto Jurassic Park e dinosauri, e Predation. Predation è un'ambientazione con i dinosauri, però vista in un mondo futuristico, laddove la storia vede degli esseri umani, insomma, che sono riusciti a viaggiare nel tempo, finire con delle tecnologie comunque all'avanguardia futuristiche, in un mondo, in una nuova comunque mondo o dimensione, pieno di dinosauri, ancora nel vivo del Cretaceo, del Giurassico, comunque di un'età simile, e conquistare questo mondo, colonizzare questo mondo, o comunque questa dimensione, ed è bello perché vedere questi guerrieri magari con dei fucili laser a cavallo di un Triceratopo, oppure vedere anche, che ne so, un Tyrannosaurus Rex corazzato da guerra con un'armatura di piastre completa addosso e che spara laser. Mi ricorda un po' Ark, sì, effettivamente. E sono però ambientazioni di cui vi parlerò più avanti, quindi le voglio leggere a modino e poi ci voglio fare dei video dedicati, anche perché metterle tutte insieme in un calderone col manuale base, secondo me si andrebbe a perdere qualcosa, ne voglio parlare nel dettaglio. Comunque, il tiro va tutto su un dado da 20, e in questo gioco si va a gradi di difficoltà. Da un grado di 1 di difficoltà, diciamo un livello, ecco mettiamolo così, un livello di difficoltà per una prova minimo di 1, massimo di 10, laddove 1 è una prova che potrebbe fare chiunque, anche praticamente una persona con delle disabilità motorie o anche un bambino, chiunque, arrivando a un livello intermedio che è un 3 o 4, per poi un 10 che è una cosa praticamente impossibile che potrebbe fare forse una persona su 1000, o se non di più. E il livello di difficoltà che viene dato dal Dungeon Master va sempre moltiplicato per 3, quindi un livello di 1 è una difficoltà di 3, un livello di 2 è una difficoltà di 6, un livello di 3 è una difficoltà di 9. Per quello che vi dicevo, un livello di 10 per 3 che diventa un 30, è difficile fare i 30 col dado da 20, però ci sono vari modificatori e varie abilità e riserve che nel Cypher System vi consentono di abbassare il livello di una prova. Quindi abbassare il livello di una prova non vuol dire abbassare il risultato che viene moltiplicato per 3, ma proprio il livello di base. Quindi una prova a livello 2 si abbassa a livello 1, quindi per farla non dovrò più fare 6 o più, perché per superare la prova dovete tirare un di 20 e fare quel valore o più, non dovrò più fare 6 o più ma 3 o più, perché scalando da 2 va a 1, se io abbasso la prova, e 1 per 3 fa 3, quindi il risultato che dovrò raggiungere sarà sicuramente più basso, ma ora ci arriviamo. Le regole sono tutte lì, bisogna vedere quanto è di difficoltà la prova che dà il Dungeon Master, ad esempio se andiamo a vedere il libro dei mostri, i mostri hanno un livello, ed è per quello che mi galba il Cypher System, perché in altre ambientazioni ci sono molti più numeri, nel Cypher System ce n'è pochissimi. Un mostro è di livello 2? Ok, la difficoltà per colpirlo è 2 per 3, perché il livello sempre per 3, quindi 6. Te devi fare 6 o più sul dado da 20. Fine. Quindi se andate a combattere, che ne so, un drago, un'ambientazione fantasy, un drago potentissimo, magari la difficoltà sua è 6, dove fate 6 per 3, 18, per colpirlo dovete fare 18 o più col dado da 20. Almeno uno non c'ha da dire, aspetta, qual era la difesa del mostro? Ok, vediamo se il tiro, e mi ricordo il taco di Advanced Dungeons & Dragons, se riesco a colpirlo, era tutta una domanda. Quello che vi ho detto anche nelle vecchie recensioni di altri giochi di ruolo, che a me non piacciono, è quando c'è da fare troppe domande e si satura l'aria. Si saturano i giocatori che devono tenere 300.000 osa in testa, e si satura il master che deve tenere più le sue e più tutte le leivellate i giocatori. Quindi è inutile quanto c'hai come Warhammer, quanto c'hai di AC? 4, io ho 4 e tiri il dado, no? Te devi sapere qual è il livello del mostro, qual è? E anche qui i dadi li tirano soltanto i giocatori. Il livello del mostro è 4, quindi 4 per 3, 12. Io tutti i tiri che farò con 12 o più avrò colpito il mostro. E quando si va a creare la scheda, nella scheda del personaggio ci sono 3 valori soltanto. Quindi anche qui dimenticatevi di creare i personaggi con, boh, non lo so, 12 caratteristiche, 8 caratteristiche, qui ce ne sono soltanto 3. Vigore, prontezza e intelletto. Vigore, tutte quelle cose che riguardano la forza di un personaggio, quindi combattere in corpo a corpo va su vigore. Ad esempio, quindi combattimenti, oppure prove di forza, resistenza del personaggio, punti ferita del personaggio, quindi anche quello che può resistere. Sul vigore vanno tutte le cose di forza, quindi del combattimento. Su prontezza è l'agilità del personaggio, quindi schivare, parare, lanciare oggetti, fare anche prove di agilità, quindi scalare una parete, saltare da un posto ad un altro. E intelletto, ovviamente, è l'intelligenza. Tutto quello che va sull'intelletto del personaggio e, perché no, anche sullo charme. Ma comunque è quello che va a vedere il lato mentale del personaggio, laddove con scaltrezza e intelligenza magari riesce a risolvere enigmi e cose del genere. Insomma, riesce anche a farsi valere in un dialogo, in una contesa dialettica contro un altro personaggio o un NPC e quant'altro. E queste qui sono le tre caratteristiche che compongono la scheda del personaggio, quindi sono unicamente queste tre, non ce ne sono altre. Poi, ovviamente, all'inizio non c'è da fare i tiri di dadi, non c'è da fare un tiro per vedere quanto uno ha in quella caratteristica. La creazione del personaggio qui è unicamente scegliersi un archetipo, un personaggio, e quando sarà scelta questa classe, mettiamola così, che in questo gioco sono chiamati dei scrittori e poi ci sono altre cose. Comunque, quando uno va a creare il personaggio, si sceglie la classe del personaggio che, ragazzi, vi ci perdete da quante ce n'è nel manuale. Ora, anche, ce ne hanno messe tante, anche perché vi fanno l'esempio delle varie ambientazioni. Voi non avete idea, non avete veramente idea delle classi e della descrizione per creare un personaggio che c'è qui dentro di questo manuale, è roba veramente da pedici e da tantissima libertà. E in più ci sono i cripto, che sono la cosa più importante che troverete in tutte le ambientazioni, è una cosa che io adoro, che è Megalbatra Morini, in tutte le ambientazioni col Cypher System. I cripto sono una cosa particolare che rigira praticamente in tutti, ve l'ho detto, in tutta l'ambientazione. Se giocate nel Medioevo, un cripto potrebbe essere una reliquia o una spada magica, non Medioevo Fantas, ovviamente una spada magica, una pergamena, oppure potrebbe essere semplicemente un ciondolo magico e cose varie. In un'ambientazione futuristica potrebbe essere un braccio bionico, un fucile da sniper di quelli paurosi, un visore, che ne so, infrarossi e cose varie, e magari un'ambientazione horror potrebbe essere un simbolo sacro per scacciare vampiri e non morti, oppure un'arma sacra che distrugge qualsiasi cosa. Questi cripto sono oggetti di una certa potenza e che ovviamente possano essere guadagnati nel corso delle partite, come anche punti esperienza e quant'altro. Altre tre caratteristiche importantissime, ma che sono derivate dalla classe che sceglierete, sono la riserva, l'attitudine e la tenacia. La riserva l'avete per ciascuna delle tre caratteristiche, quindi vigore, ora poi vi faccio vedere, ha una riserva, prontezza ha una sua riserva, intelletto ha una riserva. Le riserve sono il quantitativo di punti che avete in quella caratteristica e che potete spendere per abbassare la difficoltà di una prova. Come vi ho detto prima, la prova va tutto sul D20, quindi se io vi faccio un esempio, una prova potrebbe essere quanto ha quel mostro, il livello di quel mostro? Il livello di quel mostro è 5, quindi è sempre moltiplicato per 3 per fare la prova, 5 per 3, 15, e io dovrei fare 15 o più sul dado da 20, ma siccome tutti che giochiamo di roll lo sappiamo bene che non è facile fare 15 su 20, potrei scegliere, che ne so, di abbassare dei punti nella riserva di vigore, che ora proprio vi dico con la tenacia come funziona, quindi abbassare di un punto la prova che da 5 scala a 4, 4 per 3, 3, 12, magari potrei dire, sì, magari con 12 ce la potrei fare o comunque me la gioco, perché poi tutti i bonus relativi alle prove possono venire anche da oggetti magici e anche altre situazioni, potrebbe essere Dungeon Master che vi dice, ok, il mostro è a livello 5, quindi la difficoltà sua è 5, però ti trovi in posizione rialzata e c'è con te una lancia lunga di un metro e mezzo, te la scalo di 1, vai, perché è più facile colpirlo, quindi ci sono tanti fattori che ci rotano intorno, non ci sono soltanto queste cose. Comunque la riserva sono tutti i punti che avete a disposizione in quella caratteristica per abbassare delle prove o comunque riuscire in delle prove. Occhio che quando una delle riserve arriva a 0, il vostro personaggio è indebolito. Quando tutte e tre le riserve arrivano a 0 punti, il vostro personaggio è morto. Quindi se avete riserva 10 in vigore, quando il vigore arriva a 0, vuol dire che il vostro personaggio è esausto. Tutto il resto delle ferite che subirete, magari al vigore, non vi scaleranno più dalla riserva del vigore, perché di solito un punto è ferita ti toglie un punto dalla riserva. Ma se non avete più riserva in vigore, iniziate a scalare le altre caratteristiche. Quindi dopo vigore inizierete a levare a prontezza e dopo, quindi sarete stanco, non riuscirete più a muovermi perché siete praticamente bloccato e poi a intelletto perché non avete più nemmeno la volontà di combattere o di far fronte a un problema e sarete esavenuti per terra. Quando tutte e tre le riserve arriveranno a 0 punti, il vostro personaggio sarà morto. Anche l'attitudine ha un valore e l'attitudine vi consente di abbassare il costo in spesa di una prova del punteggio che avete in attitudine. Se avete attitudine 1 ad esempio e, non lo so, qui ci fa l'esempio, usare un incantesimo vi costerà un punto di intelletto, con la vostra attitudine 1 potrete direttamente levare quel punto e spendere, usare quell'incantesimo non vi causerà la spesa di un punto di intelletto. Stessa cosa se magari per usare un'altra prova dovessi spendere due punti di vigore avendoci uno di attitudine spenderò un solo punto di vigore. L'attitudine ovviamente si può utilizzare anche in tante altre cose e serve sempre per abbassare il costo di una qualsiasi cosa che è andata a fare azione del punteggio che avete in attitudine. Si passa poi alla tenacia e invece ti fa abbassare il livello di una prova. Quindi, come vi dicevo prima, se colpire il mostro che ha difficoltà 5 e non ce la faccio posso abbassarla a 4 di un punto se ho tenacia 1. Se invece ho tenacia 2 la posso abbassare di 2 punti. Se ho tenacia 3 la posso abbassare di 3 e così via. Se l'abbasso di 2 punti potete dire da 5 la difficoltà al livello del mostro la porto a 3 quindi 3 per 3 9 c'è una bella differenza fra abissale fra 9 e 15 tirato su un D20 e vado a fare il tiro. Però ricordatevi che abbassando di un punto del primo punto tenacia su una caratteristica quindi se la prova che state facendo va su vigore dovete levare 3 punti dalla riserva di vigore quindi nel caso ne abbiate 10 scalerà a 7 quindi la scheda è sempre in aggiornamento. Ecco una cosa che a questo gioco anche durante le azioni dovete sempre scalare continuamente o alzare punti vigore e riserve quindi se io uso un punto tenacia abbasso di 3 dal secondo punto tenacia che utilizzo per la stessa prova in poi scalo solo di 2 quindi nel caso usi due punti tenacia per abbassare di 2 la prova sul vigore toglierò 5 il primo punto tenacia toglie 3 il secondo punto tenacia invece toglierà 2 e così via serve per abbassare la difficoltà di una prova se la prova fosse 2 2x3 6 e io togliesse 2 punti alla prova andrebbe a 0 e andando a 0 una prova non dovete tirare niente è riuscito automaticamente però occhio ricordatevi che ogni volta che spendete un punto di tenacia su una prova dovete levare 3 punti da quella riserva che state usando quindi nel caso di intelletto da intelletto e per tutti i punti dopo di tenacia 2 ricordatevi sempre che quando il personaggio in una qualsiasi riserva arriva a 0 inizia a essere stanchino e debilitato quando tutte e tre le riserve arrivano a 0 il personaggio è morto la tenacia può essere utilizzata non solo per abbassare il livello di una prova ma anche per alzare un danno perché in questo gioco altra cosa che adoro le armi fanno sempre il solito danno le armi leggere o piccole fanno 2 danni però abbassano di una la prova perché un pugnale è veloce quindi nel caso un mostro abbia livello o difficoltà io lo chiamo difficoltà va bene livello lo stesso abbia livello 3 lo abbassate a 2 quindi togli sempre un punto alla difficoltà basta di una difficoltà perché un coltello è veloce e fai anche presta a colpire poi ci sono le armi medie tipo le spade quella è una mano che fanno 4 punti ferita e le armi a 2 mani che fanno 6 punti ferita ricordatevi che il danno delle armi è sempre lo stesso non cambia mai però potete usare la tenacia per alzare il danno quindi ancora una volta l'azione su cosa mi va su vigore ok uso un punto di tenacia per far fare più danni alla mia arma però ricordatevi che dovete sempre scalare come vi ho detto prima i punteggi quindi da tutte le riserve che andrete a utilizzare ci sono poi le abilità del personaggio che qui ti fa un esempio però nel manuale cambiano perché si acrobazia va bene per tutte le ambientazioni però sistemi informatici va bene per un'ambientazione futuristica per il fantasy no e quindi comunque guardatele ci sono sempre scritte capacità speciale di personaggi altra cosa importantissima è che li rendano unici quindi è la capacità speciale che rende veramente il tuo personaggio unico in quello che fa e poi ci sono i tipi di personaggio qui ve ne fa un po' un esempio è combattente lo chiamate in air fantasy in un western come vedete qui lo chiamerete pistolero gunslinger o in qualsiasi altra maniera e ci fa un po' di esempi e ci fa vedere i vari gradi che nel gioco quando si passa di livello si passa per grado quindi combattente grado 1 primo grado combattente ah qui tiro per la tabella del background per vedere il vostro personaggio del background qual è secondo grado terzo grado e quant'altro in questo gioco di base si passa di grado quando prendete almeno 4 abilità di quel grado lì quando avete 4 abilità di quel grado con i punti esperienza ovviamente che guadagnerete di solito se ne guadagna da 2 a 4 5 per partita andrete direttamente al grado successivo e il grado nonché la classe scelta all'inizio ci dice tutto quanto ci dice soprattutto quali sono i nostri valori di partenza ci dice quali sono le nostre riserve di partenza e soprattutto ci dice anche quali sono come vedete qua giù ci dice ad esempio un combattente inizia con vigore 10 quindi non dovete tirare dadi con prontezza 10 con intelletto 8 e poi avete tot punti liberi che ovviamente qualche punto libero ve lo da da spendere dove volete quindi li potete mettere dove vi pare ricordatevi che il valore che vedete accanto alla caratteristica è la riserva quindi in questo caso lui il combattente parte con riserva a vigore 10 ci potete mettere altri punti la potete fare arrivare magari a 13 14 cose del genere abilità che ha sotto e voi queste abilità le avete di partenza ovviamente se no il personaggio non saprebbe fa nulla e per passare di livello dovrete prendere altre abilità mi sembra 4 non vorrei sbagliare però dopo che ne avete preso 4 potete passare al grado successivo del vostro personaggio della vostra classe e qui si va avanti ti fa vedere ad esempio un adepto che è tipo un mago tabella background questo dovete prendere semplicemente da dalla 20 tirare e vedere cosa è uscito 17 è venuta questa riga qui e poi ci sono tutti quanti i tipi di personaggio ovviamente cambiate lì nome cambiate ambientazione però alla fin fine serve anche a poco o niente perché andando avanti troverete ve l'ho detto tutte quante le ambientazioni descritte abbastanza nel dettaglio un'altra cosa molto originale il descrittore del personaggio voi quando create il personaggio e lo vedete anche sulla scheda di creazione dovrete sulla scheda c'è scritto sono un sostantivo aggettivo verbo che sono i descrittori del vostro personaggio ad esempio sostantivo è la classe che avete scelto quindi sono un combattente sono un pistolero sono un arciere sono un mago e così via poi l'aggettivo che è un'altra cosa importantissima e ragazzi ce n'è un milione un milione guardate veramente quanti ce n'è pieno un terzo del manuale sono gli aggettivi tipo affascinante aggraziato e dovete leggere lo potete scegliere non va attirato e dovete leggere cosa è scritto sotto tutti i bonus che ci sono scritte sotto più anche le abilità le prendete però ricordatevi che nel caso ci fosse anche un malus o cose del genere quello lo dovete prendere quindi sono un sostantivo che è la classe aggettivo che è appunto un aggettivo di descrizione che vi va a dare delle caratteristiche particolari quindi rende unico e ancora più specializzato il vostro personaggio per poi arrivare in fondo al verbo e il focus e il focus è il verbo la parte finale il focus è secondo me la parte in assoluto insieme all'aggettivo se la scozzano però è la parte più importante del gioco perché vedete anche il focus è diviso in ranghi questo gioco praticamente ragazzi va avanti tutto a ranghi quindi vedete da un rango 1 si passa al rango 2 si passa al rango 3 al rango 4 e così via e il focus è quello che la capacità mettiamola così speciale del vostro personaggio è ciò che sa fare meglio il suo potere principale quindi vi da l'esempio qua giù del fantasy ci fa vedere varie ambientazioni e ci sono vari esempi contemporaneo o comunque horror o qualcosa di fantascienza tipo qualcosa di spaziale sci-fi e di qua supereroi ma ragazzi il manuale prima a dirvi se qualcosa manca aggiungetela voi basta che siate d'accordo giocatori e master e ad esempio un focus potrebbe essere accudisce gli spiriti come avete visto anche qui ce li descrivi tutti che è il primo del fantasy quindi uno che accudisce gli spiriti ha un focus che è la parte finale del verbo appunto nella negromanzia e anche qui diviso in ranghi rango 1 rango 2 rango 3 e per ogni rango farà qualcosa ovviamente anche qui c'è la maniera tramite di passare nel focus di rango e andare più avanti e diventare molto più potenti laddove a rango 1 uno riesce a percepire e a intravedere gli spiriti mentre invece a rango 5 o 6 riesce addirittura ad entrarci in contatto e a guidarli ci sono tantissimi altri focus ad esempio assassina quindi qualcuno più basato nelle arti del sotterfugio di filarti una bella lama in mezzo alle scapole e poi ti può brandire due armi caccia con maestria e quant'altro quindi alla fin fine il verbo è quello che dà la descrizione finale che completa la descrizione finale del vostro personaggio che il vostro personaggio vi ricordo essere un sostantivo che è la classe del personaggio io sono un sostantivo un aggettivo che l'aggettivo è invece quello che lo va a descrivere nei dettagli affascinante sciocco estroverso attento in gamma insomma ci sono tanti aggettivi e per ultimo il verbo che è la parte in assoluto più importante che va a chiudere questo ciclo che è il focus che invece vi dà proprio l'abilità e la capacità speciale del personaggio e questo ragazzi ci sarebbero tantissime altre cose a dire il danno dell'arma è sempre quello se una spada fa 4 fra 300 avventure farà sempre 4 però potete usare come vi ho detto prima alzare il tiro consumando la riserva usando la tenacia anche per prendere questo tiro qui e incrementare o abbassare la difficoltà del tiro o addirittura alzare il danno dell'arma e andando in fondo nella parte verde ci sono le tabelle dei mostri le tabelle dei mostri prendendo uno ad esempio mi sa che mi è venuto uno particolarmente forte vedete qui il nome del mostro l'ambiente dove si può trovare la salute del mostro perché anche qui la salute ti attacco con un'arma che fa 4 danni te non riesci a parare il colpo prendi 4 danni almeno che non abbia incrementato il suo danno se il mostro ha un'armatura come in questo caso un'arma che fa 4 danni viene completamente annullata dalla sua armatura perché il mostro ha 4 di armatura quindi se volete colpire un mostro del genere o avete un'arma a 2 mani che fa 6 danni o avete un'arma magica o se no incrementate i tiri perché non ce la farete mai ad ucciderlo un mostro con 20 punti ferita che fa 6 danni ogni volta che vi colpisce anche loro fanno danni standard e l'armatura è a livello 4 come vedete è praticamente impossibile buttarlo giù con armi convenzionali e tra l'altro è di livello 7 il tiro che dovete fare per colpirlo è 7 per 3 quindi 21 e fare 21 con un dado da 20 è un casino della madonna se non abbassate la prova però comunque vi ho preso un mostro disumanamente forte andando su un mostro un pochino più standard questo mostro ad esempio è di un'ambientazione più futuristica o steampunk vedete ha salute 15 armatura 3 leggermente meno infligge 4 danni ha tipo di movimento e poi è di un livello sicuramente più basso per essere colpita quindi ragazzi il regolamento ben o male a grandi linee è tutto qui ma il safer system più che è un regolamento universale però è anche una fonte di ispirazione per creare ed adattare perché un'ambientazione ad esempio uno vorreste ambientarlo in una specie di dead space o ambientazione sua spaziale horror ha un manuale che gli permette assolutamente di farlo con delle regole semplicissime che ti rimangono in testa che è una bellezza e poi non c'è da tenere tante cose a mente perché ti devi sapere soltanto quali sono le tue caratteristiche qual è la tua riserva e soprattutto soprattutto cosa più importante devi sapere qual è il livello del mostro sapendo che il livello del mostro è 3 ti devi tirare 3x3 9 ogni colpo che fa 9 o più è andata a segno e questo è tutto il regolamento quindi ragazzi questo a grandi linee è il cipher system che è un sistema che vi consente di creare la vostra ambientazione con le vostre regole in maniera anche abbastanza veloce però ve lo dico già il manuale di base comprato questo senza poi ovviamente se vi volete approfondire su altre ambientazioni che sono bellissime vi consiglio gods of the fall che è veramente spettacolare e anche predation che è uscita da poco però allo stesso modo se uno lo compra e dice ma io lo compro perché vorrei giocare un western ci sono già gli esempi dentro è perfetto io lo compro perché ci vorrei ambientare una storia tipo un po' con lo tulu va bene io magari io parlo per me personalmente la prima avventura che farò con mia moglie e che giocheremo con un regolamento del genere mi piacerebbe fare qualcosa tipo Soma ambientata sott'acqua o se no anche Dead Space anzi la prima cosa che mi è venuta in mente era proprio Dead Space quindi ambientazione molto sci-fi che a me piacciono particolarmente tanto molto più del fantasy comunque è un sistema universale che si adatta a qualsiasi tipo di gioco ma la cosa bella è che è facile tutti i dadi li tirano ai giocatori il master non tira dadi mai sono solo i giocatori che tirano dadi perché quando voi attaccate un mostro attaccate dovete tirare vedendo la difficoltà il risultato che dovete raggiungere quando il mostro attacca voi però voi vi dovete difendere dall'attacco del mostro per forza quindi siete ancora voi una volta a tirare sapete quant'è l'attacco del mostro la difficoltà che deve fare per colpirvi è la vostra parata o l'armatura che ci avete addosso quindi tirate e siete voi stessi a vedere se il mostro è colpito o no poi ci sarebbero altre regolette tipo quando si fa un tiro con un dado da 20 un 19 sul dado da 20 come risultato è un effetto minore però che si va a aggiungere tipo t'ho colpito però non soltanto t'ho colpito ma magari t'ho aperto anche un taglio e stai sanguinando e perdi punti ferita con un 20 che invece è un critico nel buon stile D&D che invece t'ho fatto qualcosa di maggiore non solo t'ho colpito t'ho aperto uno squarcio sanguini ma magari scivoli e cade anche per terra e quindi perdi l'arma o perdi il turno quindi è un regolamento veramente che si adatta bene a ogni situazione fatto veramente da paura chiaro pieno zeppo di esempi e mi ci sono perso veramente a legge i descrittori mi ci sono perso ad ammorire soprattutto gli aggettivi e i focus i verbi che ci sono in fondo ragazzi dateli una possibilità e soprattutto più di una andate a vedere sul sito della weird che trovate tutte le informazioni ovviamente anche il primo link in descrizione per acquistarlo perché è veramente una cannonnata ed è veramente un regolamento bello che a volte io sono lì ancora una vita che mi ci ammazzo che dico allora hanno creato ambientazioni per tutte lo dico anche ora hanno creato ambientazioni per qualsiasi cosa qualsiasi cioè a volte anche cose che non si pensano hanno fatto un gioco di ruolo però dei miei due generi preferiti non ce l'hanno mai fatto mai o perlomeno film mettiamoli così film o videogiochi uno ma come cioè una delle trilogie più famose che ha venduto veramente un casino la IH è diventata ricca l'Electronic Arts Dead Space ma nessuno si è ancora ingegnato per farci un GDR su Dead Space ma al fine lo farò io e la seconda un bel gioco slasher cioè non ho mai visto un regolamento per un gioco di ruolo con un film slasher anni 80 venerdì 13 Halloween Nightmare Chucky la bambola assassina cioè non sarebbe una figata anche come tipo di gioco non ci sono ve li fate voi col Cypher infatti anche lì mi galverebbe fare un'avventura in un campeggio tipo con una specie di Jason con la maschera vi dà la possibilità di mettere veramente mano alla vostra fantasia e tirare fuori l'impensabile qualsiasi cosa quindi se le devo dare un voto al Cypher System veramente gli do un 9 e mezzo su 10 perché mi è piaciuto da morire ed è un sistema universale perfetto per qualsiasi tipo di avventura singola o anche campagna che volete portare avanti se poi contiamo che il massimo grado che può raggiungere un personaggio è il grado sesto non c'è nemmeno poi dopo da impazzire più di tanto quindi è un gioco assolutamente consigliato a tutti ed è un sistema che se cercate di creare la vostra ambientazione ma vi serve un regolamento solido per crearla questo è veramente perfetto quindi io ancora una volta ringrazio la Wild Edizioni per averci offerto una copia per la recensione grazie ragazzi sono tanto lo sapete ma lo dirò ogni volta sono logoroico anche nei ringraziamenti veramente è un piacere un onore collaborare con voi tanto lo sapete bene ve lo dico sempre e in descrizione trovate nel primo link dove acquistarlo e tutti i link dei nostri social fateci sapere cosa ne pensate e datevi veramente un'occhiata ciao ragazzi alla prossima